che a volte non è importante sapere tutto della palla a volo, dovevo essere un po' più bravo a parlare con qualche persona. E persona, giocatori, squadronatori? Giocatori, agenti, staff, con qualcuno di più. Dovevo essere un pochino più aperto al dialogo che chiuso sulle mie posizioni. Però probabilmente quegli anni lì, ripensandoci, ho avuto la fortuna di comunque andare ad alto livello parecchio giovane. Perché comunque ho cominciato che avevo 23 anni, ma a 26 anni facevo già il secondo alla Teodora Ravenna. A 28 ho vinto il primo scudetto da assistente allenatore. A 31 allenavo già una serie A, quindi diciamo che sono riuscito a fare serie minori e a partire in fretta. Diciamo che questa chiusura di comunicazione era anche una forma di protezione, perché comunque ero giovane, se non anche giocatrici della mia età, quindi non era molto facile, capito? Però con gli anni ho capito che il dialogo mi avrebbe aiutato in alcune situazioni, che l'intransigenza. Pensavo che la medicina migliore come allenatore fosse quella di vincere e di allenare bene. In realtà nel mondo femminile, non so in quello maschile, ma in quello femminile non è così. Non importa se tu sei un bravo allenatore, delle volte importa se ti vendi meglio di altri. E questa cosa onestamente è un po' una delle parti del nostro mondo che mi continua a deludere e deprimere un po' di più. Dove credo che la meritocrazia debba essere più riconosciuta, sia a livello dei giocatori, sia a livello degli allenatori, sia a livello dei dirigenti. Invece credo che ancora ci sono delle dinamiche per cui a volte la meritocrazia viene in secondo piano. Solamente questo.